La partita intervento allora con, vediamo un po', i capricchi. Bene, è un partita anche quasi contemporanea dei cadetti Pesaniini e Martini. Per la prima serie abbiamo... Ecco via le cadette, la seconda serie, l'onora, le altre, la fisica, la debola, la cadette Lenica e il nuovo il valo. ecco chi è arrivato al miglamo e gli conosciuto il portiere e l'interiore preiezione per il gatto ragazzo Marco, proseguiamo cerchiamo di chiamare il tetano ecco continuiamo con le attività inizioni ecco i guanti spritano ultimi metri veramente brave hanno salvato un traguardo un po' di maschi ma con problematizzazione ecco che hanno ah, non l'ha fatta non l'ha fatta non l'ha fatta non l'ha fatta e chissà allora Allora, da un nuovo gruppo femminile, per il passaggio a noi, benissimo, bravissime. Allora, vediamo se Bazzanella vengono, riesce a raggiungere questa volta. Eccola, se la tappa, perché la trova giusto. Eccola, per il presidente Stavrini, la terza serie, la seconda, scusa un attimo. Eccoli che ci stanno avvicinando la donna Fabio e il centro, le altre tanti grossi. E' un'ottima che ci porti a noi allontanmo in più e che vanno a ritimare all'altra parte. Un po' di tanti stiti, un po' di tanti stiti, un po' di tanti stiti, un po' di tanti, un po' di tanti, un po' di tanti, un po' di tanti. Ciao, ultimi atti, ok, è andata. Allora, vediamo se Città mi Giulia la batteria ancora di 2 anni di 3 tempo, una terza serie l'unica, credo, mentalissime. Mattia Nicolini è tra l'altro, scappando con lui. Vi petto, Mattia Nicolini. Allora, abbiamo dato un'altra mano, un'altra mano, un'altra mano, bravo, 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 bravo. Bene, prezzo di mano. Bene, proseguiamo allora con l'eserino, con uno gravino del podio. Brava. Mediapnoia. Anche due leggi, ma scorsa. E il gravistante, non c'è? Basta che c'è in apnoia. Ok, in questo, per te? Ci troppo, è la verità, stai in apnoia. Ho già pitala, l'aveva ancora meglio oggi, eh? Mi chiamino di serena, dai, facci un pochino. shouldn't do. Bene, bene. Bene, bene. Cassina. Andiamo a un'altra mano, per un fatto in atto. Pezzi, rispetto al piacolino. Bravi, bravissime. Grazie.